Amici dei fuoricampo, buonasera e ben ritrovati con questo nuovo video. Qui ha sottoparlato, come sempre, il vostro Davide Marchiol, per stavolta fare il punto della situazione in casa vovidenese alla luce della, oserei dire, debacle del derby del Triveneto contro l'Elas Verona. Detto questo, prima di cominciare, ovviamente, classici 40 secondi di Marchetta. Vi invito a iscrivervi al nostro canale, siamo i fuoricampo. Ci trovate su YouTube e sugli altri social che vedete sotto di me. Avete tutti i link in descrizione, continuate a supportarci in tanti come state facendo. Su YouTube stiamo andando sempre più verso i mille iscritti, che sono un po' il primo obiettivo rilevante per la piattaforma, che ci permette di sbloccare un po' tutte le funzionalità del canale rosso. Non così mi è venuta in mente questa definizione sul momento. Altrimenti trovate i miei articoli su tuttodianese.it e anche tuttomercatoweb.com il giovedì mattina. Detto questo, ovviamente, scusate, così, anpassant, se siete già iscritti, il like che ci aiuta a far girare di più il nostro video. Ricordatevi di farlo, mentre la mia fotocamera si ricorda puntualmente che devo dirgli di non andare in focus automatico, perché se no lei non gradisce. Ok, tolto per l'ennesima volta. Mettete like, ci aiutate a far girare i nostri video, e se volete un commento fa sempre piacere un po', perché così noi possiamo dibattere con voi, e soprattutto anche quello aiuta a far girare di più il video sulla piattaforma. Ho cercato di ritardare il più possibile l'inizio del contenuto chiave del video, ma alla fine ci siamo. Mi tocca parlare di questa sconfitta per 4-0. Gara che nel risultato è stata senza storia. In campo diciamo che un po' di storia l'ho vista. Cioè, se devo salvare qualcosa, salvo almeno l'atteggiamento che, insomma, più che no, atteggiamento scorretto, diciamo la voglia di incidere, ecco, di riaprirla, di riacciuffarla, eccetera. Posso salvare quello? Non salvo di certo un avvio di gara terrificante che prendi subito. Va bene che il Verone ti ha attaccato in 7 e tu hai difeso in altri tanti uomini, sei riuscito a fargli fare quello che volevano, perché, cioè, bisogna anche dire le cose come stanno. Cioè, sul gol di De Paoli, Verona fa sostanzialmente quello che vuole in casa tua. È chiaro che non è semplice difendere quando una squadra ti ha avversari, ti attacca con così tanti uomini, ma non puoi neanche lasciargli tutta quella libertà di fare quello che vogliono. Eh, questo, cioè, ci sono entrambe le cose sui piatti della bilancia. Bene la reazione. Cioffi ha deciso di non partire con Beto, ma con Success. Scelta tecnica. Mi dicono che Beto non era al toppissimo della sua forma. Insomma, la stanchezza che si è notato ultimamente c'è. E, boh, è anche normale, perché, insomma, non è stato benissimo ultimamente. Quindi, ci sta, ci sta, che parta Success al suo posto. Prima o poi sarebbe capitato che, insomma, il portoghese sarebbe rimasto fuori. Capita. E, insomma, però Success si è fatto il suo. Ha anche preso, ci è entrato una traversa, con una bella iniziativa personale, una bella stecca. Cioè, è un ragazzo che mezzi, mezzi ne ha. E, insomma, per quella mezz'ora, prima del raddoppio, Udinese c'è anche, insomma, Molina e Udoghi sgroppano sulle fasce. In mezzo al campo Uola, Siaialo, anche andando ai loro ritmi, che non sono proprio elevatissimi, cercano di giostrare. Ma che in go dà qualche strappo anche lui. Dietro, comunque, dai la sensazione di aver preso le misure. Però poi, centri il palo, sbagli un gol fatto con Molina, che la manda addosso a Montiponi, invece di insaccarla, quando avrebbe tutto lo specchio della porta per l'1-1. Non concretizzi, nel calcio la regola è sempre quella. Go sbagliato, go subito. Dopo, sostanzialmente, replichi lo stesso problema avvenuto nella prima palla a gol del Verona. che ha costruito poco, però non è che devi costruire per forza 74 pali e gol per segnare. Se sei bravo, quelle che costruisci concretizzi. Difficile, difficilissimo, però non è impossibile se gli lasci l'occasione. Barak fa un gol da campione, attenzione, cioè tira fuori dal cilindro un tiro di precisione chirurgica, perché l'ha fatta passare nell'unico spazio in cui poteva passare per insaccarsi. Cioè, al fianco del difensore è a fil di palo. Silvestri non poteva farci nulla. Troppa libertà, però, anche lì. Troppa libertà. Ziglar è stato veramente, stavolta, molto molle. La riprova, parere personale, ma potrei sbagliarmi, non faccio l'allenatore di mestiere, faccio giornalista, che forse contro il Toro, e anche il Toro che è andato sotto ritmo, ma come avevo già detto nel video post-torino, non lo so se Zeghe ha i mezzi per fare il difensore centrale di mestiere, per quanto il bracetto di sinistra abbia compiti anche vagamente simili a quello del terzino. Oggi ha trovato degli avversari che le poche volte che hanno affondato andavano a ritmi un po' più elevati, non mi ha dato la sensazione di raccapezzarsi molto, e Marie e Becao sono andati in difficoltà, perché oltre a Zeghe, anche i compagni quando ripiegavano non davano la sensazione di sapere perfettamente cosa avrebbe voluto fare il Verona, davano la sensazione un po' di navigare a vista, e due centrali, per quanto con mezzi buoni, sono andati anche loro nel pallone alla fine. Primo tempo che scrive 2-0, nonostante il livello di occasioni da gol, comunque l'Udinese crei tanto, nella ripresa ha fotocopia di quanto visto nel primo tempo. Una buona volontà, da parte dell'Udinese, che cerca di costruire per pareggiarla, ma il Verona ha a concretizzare con Caprari, il terzo l'ha fatto Caprari, ho perso il conto, sì, 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 sono abbastanza convinto che il terzo fosse di Caprari, esattamente, su Asset di Tamese, e poi sui cambi, francamente, anche stavolta, con Cioffi non condivido, ma ripetendo sempre, Cioffi faceva il vice fino a poco tempo fa, come ci si può aspettare, che abbia già una lettura delle partite da allenatore di Serie A, non l'ha mai fatto, silenzio che fa capire molte cose, ma detto questo, ok, Beto al sessantesimo, ce n'era bisogno per quanto fosse spompato, infatti in campo non si è visto granché, se Samarzi ci vai a dire in conferenza stampa il giorno prima che ha bisogno di più spazio, sul 3-0 che la parete ormai è finita, perché non lo butti dentro? Non ho capito quella mossa lì, cioè, è andato a dire che ha bisogno di più spazio il giorno, cioè, Jell ha detto, e oggi, sul 3-0, parete chiusa, manca ancora mezz'ora, cioè, fruttamente 25 minuti più recupera, ma buttalo dentro, ma che ti costa? Cioè, ormai la partita è andata, almeno gli dai un minutaggio, rendi utile sta partita per qualcosa, almeno no, no, dobbiamo tenercelo per il 94esimo, quando ormai praticamente tocca un pallone e non può più fare nulla. Gestione che trovo assolutamente errata. Sugli altri cambi, l'udinese è quelli A, Sopì, da capire Udugi come sta, che ha avuto un piccolo problema fisico, e, insomma, cioè, non è che ha tanti altri alterni a Pussetto, che anche lui, è un fantasma, cioè, fa una fatica tremenda, bene il gol di su rigore con il toro, si spera gli aumenti un po' di affiducia, però, fatico a comprendere cosa non vada, presumo, ripeto, come ho sempre detto, sia un problema psicologico, credo, e, tengo l'ultimo minuto per Deulofeu, che, per quanto sia un giocatore che mi piace tantissimo, sta diventando oggettivamente un problema per questa squadra, cioè, non, non, non ci si può girare troppo intorno, un Deulofeu così è inutile, è un peso, perché fa quello che vuole lui, gioca come dice lui, e si intestatrice sulle azioni che vuole lui, cioè, così, se sono un suo compagno di squadra, lo guardo, gli dico, perché devi giocciare, perché devo darti palla? no, così non va, così non va, sarà un ragazzo fortissimo, cioè, perché di mezzi ne ha, ve l'ho sempre detto, ho cercato sempre di difenderlo quando potevo, per iscritto, per video, così no, così no, così no, cioè, così sei egoista e basta, non sei utile alla causa, è chiaro che staff e dirigenza sperano sempre di vedere un giocatore che si applica, perché comunque per puri mezzi, in senso assoluto, è il giocatore che è più forte della Rosa, probabilmente senza grossi dubbi, sotto l'aspetto mentale, però non ci siamo totalmente, siamo distantissimi anni luce da quello che doveva essere, quello che vorrebbe essere, almeno secondo lo staff e la dirigenza, quindi bene sotto l'aspetto dell'applicazione, almeno intendo con la volontà di recuperare il risultato, malissimo in tutti i dettagli, cioè in tutti i dettagli sei mancato, in seri a non puoi mancare sui dettagli, se no finisce come è finita oggi, 4-0 per gli avversari, quel poco che hanno creato lo segnano, il gol di Lasagna nel finale sarebbe francamente stata una beffa troppo grande da digerire, anche per il sottoscritto, però almeno uno di loro ha sbagliato, e guarda caso proprio Lasagna, ma vabbè, quindi che fare? Niente, resettare un attimo per l'ennesima volta, sperare che negli allenamenti la squadra si ritrovi un attimo mentalmente, capisco dove ha sbagliato oggi, perché di errori ne ho visti i film troppi, e ci teniamo le discrete prestazioni di alcuni singoli, come Success, Mac and Go, Iaialo con tutti i suoi limiti del caso ha provato a fare il suo, poco, si salva un po' pochino francamente alla luce del risultato, bene la volontà, male tutto il resto, male tutto il resto. Niente, speriamo di rivivere allora partite un po' più divertenti per la nostra parte dalla settimana prossima, c'è una difficilissima incrocio contro la Lazio, che di voglia di ridere e scherzare ne avrà poca, perché si è ripresa alla grande della batossa con il Milan, facendone tre, facendone tre, sì, al Bologna, serve una grande prestazione, è una buona occasione anche perché c'è una delle big, sostanzialmente per quanto non sia in una delle prime insieme posizioni, quindi speriamo che l'Udinese dia una reazione, mancano pochi punti alla salvezza, vediamo di farli, evitiamo, evitiamo assurdità come avrebbe dovuto negli anni scorsi, grazie. Detto questo, ricordatevi se vi è piaciuto il video il like, scrivetemi la vostra nei commenti, se l'avete vista come me, o se vi sono perso troppo cattivo, o troppo buono con qualcuno, e ci vediamo al prossimo appuntamento, al prossimo video, per Gatto Venezia, Udinese, o diretta. Ciao!